E' tempo di funghi? E noi li prepariamo! Ho preso una bella cassettina di funghi, questi sono i champignon, quelli grandi, eh? Li ho trovati e quindi ho pensato perché no? Prepariamoli! Quindi ho iniziato a pulirli, poi li ho lavati, eccoci! Stacchiamo il gambuccio e lasciamo la testa intera, ok? Quindi togliamo i nostri gambucci, eccoli, con delicatezza così che non si rompe nulla e li facciamo a pezzettini, pezzettini inini, eh? Ok, vedete? Lo fate prima a sfruisce e poi a quadrettini. Poi un cucchiaino di olio in padella, già accesa, eh? Certo! Mettiamo dentro uno spicchio d'aglio, io gliel'ho voluto schiacciare. Se vi piace sentire gna gna sotto i denti, fate pure come volete, anche a pezzi grandi, ok? A me piace che praticamente l'aglio scompare all'interno della cottura insieme ai funghi, così si confonde, si confonde, imbrogliamo i funghi. Ok, lasciamo andare qualche secondo e iniziamo a mettere le nostre spezie. Quindi un classico è pepe e poi il sale, ok? Però siccome mi piace molto questa spezia, eccola, l'ho voluta aggiungere perché io amo la curcuma e quindi la utilizzo e poi mi piace perché dà molto colore. Anche alle dita, anche alle dita, sì, 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 lascia tutto il giallo. Poi ho preso una fetta spessa di speck, sono l'equivalente di circa un 40-50 grammi, l'ho fatta a striscioline e poi a pezzettini. Sono andata a unirla ai funghi dopo che hanno cotto un pochino, eh? Dopo 7-8 minuti di cottura, ho messo dentro il nostro speck, eccoci. E lasciamo cuocere ancora un pochino, ma giusto un paio di minuti, eh? Poi ho preso una manciatina di pomodori secchi, li ho sgocciolati, neanche tanto perché comunque, visto che io uso pochissimo olio, mi va bene il fatto che poi quando vado ad unirli ai funghi, comunque rimangono morbidi. Quindi li ho fatti a pezzettini e li ho messi dentro, appunto, al composto, no, ai funghi, i gambucci dei funghi. Dopodiché, cosa ho fatto? Ho preso la mollica di pane, e questa è l'equivalente di circa 50 grammi di mollica di pane, 50-60 grammi, l'ho frullata, dice, ma perché non prendi il pangrattato? Perché non è la stessa cosa, perché il pangrattato è più secco, invece la mollica di pane rimane più morbida nell'impasto, no? Eh sì, impasto, questa volta sì, perché ora capirete. Quindi uniamo ai funghi e poi spengo, ok? Quando adesso sto aggiungendo l'uovo, spengo, ok? Bene, bene, perché avete visto, no? Ho battuto con la forchetta leggermente l'uovo e poi glielo ho aggiunto. Quindi spento, lasciamo da parte. Poi ho preso una manciatina di basilico, che normalmente lo faccio con le mani, no? Lo spezzo con le mani, però avevo bisogno di averlo piccolo piccolo e glielo ho messo all'interno del nostro impasto. Ok. Avete visto le teste dei funghi? Bene, ok, da parte. Allora, prendiamo un contenitore e mettiamo dentro un po' di peperoncino, che ci sta sempre bene, altro basilichino, eccolo. Dopodiché ho preso l'olio, questa volta a cucchiai, ho preso un paio di cucchiai d'olio, ho messo un pochino di aglio in polvere e ho girato, gira, 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 è mai poco, stè, devi aggiungere un goccino d'olio, perché se no, ecco, non basta. Va bene. Allora, poi, con un pennellino ho iniziato a spennellare i miei funghi. Quindi, ok, ok, e lasciamoli da parte. Il resto che è avanzato l'ho messo dentro all'impasto, naturalmente, se butta niente, non si butta niente. Ok? Allora, iniziamo con prendere anche un paio di patate, dipende dalla grandezza del vostro contenitore, praticamente della teglia, facciamo le fette di patate, non troppo fini, ma neanche troppo spesse, e andiamo a metterle come letto della nostra teglia. Ok? Quindi mettiamo le patate come base, eccoci qua, riempiamola per bene, così ci fa da supporto quando andremo a metterle poi nel forno, che nel frattempo abbiamo acceso a 180 gradi. Comunque, mettiamo sale e pepe sulle nostre patate, dopodiché iniziamo ad aggiarli sopra i nostri funghi. Eccoli, li riempiamo per bene. Mani d'amianto, vabbè, comunque si era raffreddato un pochino, però è vero, le mani d'amianto. Non sopporto l'acqua fredda, ma l'acqua calda sì, quindi non sopporto il freezer, ma il forno sì, e quindi mani d'amianto. Allora, mettiamo sopra i nostri funghi ripieni, regolatevi perché tanto poi quando li mettete nel forno si restringono un pochino, quindi stringeteli, stringeteli. Poi avevo un po' di cacio ricotta. Allora, avevo questa cacio ricotta, ho detto perché no, un sapore deciso, e quindi gliel'ho voluto mettere sopra. Eccolo qua, senza trucco, senza inganno, anche perché poi i funghi tirano fuori l'acqua, quindi non ho messo, come avete visto, non ho messo nessun liquido alla base, perché tanto poi sono i funghi stessi che mi tireranno fuori la loro acqua, ok? Quindi via nel forno a 180 gradi, per circa una mezz'oretta. Se non vi piace l'esito delle patate, togliete i funghi e lasciate ancora dentro le patate, ok? Io ho fatto così, perché mi piacciono che si bruciacchiavano un pochino, vedete? E quindi questo è il risultato, un secondo completo. Vi è piaciuta quest'altra ricettina? Ricettina ina ina, eccola qua, i funghi ripieni con il contorno di patate. E questo è quanto per oggi, se vi è piaciuto, pollice in su e io come al solito vi aspetto alla prossima ricetta. Ciao ciao!